Ancora un incontro istituzionale sulla questione Montedoglio. Al vertice che si è svolto ieri mattina a Palazzo Donini a Perugia, convocato e presieduto dal governatore dell'Umbria, Catiuscia Marini, hanno preso parte gli assessori regionali della Toscana, Salvadori e Bramerini, e dell'Umbria, Cecchini e Rometti, alla presenza anche del direttore dell'ente irriguo umbro-toscano, Diago Zurli. Un incontro per concordare un indirizzo comune, in attesa del summit, che avrà luogo il 18 gennaio con il Ministero. Riconfermate le priorità emerse nell'incontro che la Regione Toscana ha tenuto in Valtiberina la scorsa settimana. Per gli amministratori regionali, il governo deve predisporre al più presto un intervento di ripristino dei danni, verificatesi alla parete dello scolmatore dell'invaso di Montedoglio, parzialmente ceduta nella serata del 29 dicembre scorso. Gli interventi devono essere realizzati in tempi rapidissimi, in quanti vi è la duplice necessità di garantire la massima sicurezza e determinare al tempo stesso le condizioni per riportare a regime la disponibilità della risorsa idrica. Oggi in preparazione una lettera congiunta delle due Regioni che sarà inviata ai Ministri dell'Agricoltura e delle Infrastrutture, Giancarlo Galan e Altero Matteoli, al fine di avere risposte certe in vista dell'incontro per discutere del nuovo assetto istituzionale dell'ente irriguo. Per ciò che riguarda la gestione della risorsa idrica disponibile, è stato affermato che nella fase transitoria, pur in presenza dei lavori che dovranno essere effettuati, non vi saranno problemi per tutto l'anno in corso, sia per l'utilizzo di acqua per scopi idropotabili che irrigui. Preoccupazioni in caso di tempi lunghi sono invece state manifestate se dovessero allungarsi i tempi di realizzazione dei lavori di riparazione.